Sono stati rilasciati dal carcere giudiziario di Regina Celi a Roma i sei fermati dopo il corteo di sabato scorso nella Capitale. Il servizio di Matteo Parlato. Liberi perché non sono stati trovati riscontri alle versioni contenute nei verbali di arresto. Tornano a casa i sei ragazzi fermati sabato scorso al corteo di Roma. Madonna, madonna, sono impazziti. Che cosa, che cosa vuole sapere? Non hanno convalidato, non hanno emesso misura. Tutti e tre, tutti e tre liberi, tutti e sei liberi, tutti liberi. È stato dimostrato e riscontrato che queste persone non dovevano nemmeno essere arrestate. Non ci sono elementi da cui ricavare che possano aver partecipato agli scontri. I sei erano al corteo di sabato, anticipato come pericoloso, ma gli stessi organizzatori hanno isolato i violenti, evitando il peggio. La notizia della liberazione, attesa per ore, è stata accolta con clamore dal presidio degli attivisti, ma soprattutto dai parenti dei fermati. Vuol dire che c'è giustizia, no? Oggettivamente c'è la giustizia, quindi è un paese in cui possiamo ancora credere e i giovani praticamente ci aiuteranno in questo, perché l'espressione del pensiero libero è la cosa più importante, è la cosa più importante che esiste, altrimenti il paese non cresce, non cresce. è la spessione del pensiero libero.